Il Fumo C'è il fumo? Quanta? 50 Non hai comprato roba? Niente Guarda che non è una domanda, ragazzi Scusa, 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 scusa Non sono un criminale Non sei un criminale? Non eri un criminale? E più non ti accercare il mio male Vai lì, ci balli un po' Scusami, non volevo Cazzo stai Quindi non è cambiato un cazzo da prima? No, qualcosa è cambiato Mi vuoi dire se sono in arresto o no? Sono in arresto o no? Questa sia